Spero che sia stato chiaro questo percorso non semplice ovviamente sul teatro dell'assurdo, sempre ricordandosi che assurdo non vuol dire strampalato, non vuol dire assolutamente caotico e primo di senso, è semplicemente stonato, cioè qualcosa che non è intonato con la realtà, ma poi non vuol dire che abbia una sua logica, una sua dimensione ideale e un suo motivo di essere. Perché le battute sono ta, 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 vado, ebbene ben solo, va bene, e ha deciso, eccetera, va bene, poi fa questo lavoro qua, gira, ta, va, mani, testa e poi il contrario, slow, sì, sono qui, vieni qua. Sì, guarda che è difficile, è una delle cose più difficili da fare a teatro, sono due, stare fermi con le mani lunghi i fianchi, senza niente, parlando c'è, l'altro è cominciare a camminare, io muovo, faccio l'emba su un piede, muovo l'altro, mi devo girare, vado di là, allora ho questi piedi di verno, questo va, non è che faccio questo, faccio questo, è più pulito, questo è sport, chiudo, chiudo verso lo spettatore. Quanto deve Pinter, Aaron Pinter a Beghe, un sacco deve, un sacco. Chi ha visto il calapranzi? Il calapranzi sono due sicari che aspettano i comandi, intanto c'è il calapranzi, questo montacadichi che si abbassa con degli ordini, no? E non aspettano. Sapete cosa fanno i primi due personaggi? Ben e Gus, eh? Ben, mi pare sia Ben, che sono tipo Gus, uno dei due comunque, si sta allacciando le scarpe, come stragole. E sapete cosa fa l'altro personaggio di Aaron Pinter, il calapranzi? Poi tira fuori dei crackers, delle cose, c'è, c'è la carota e la rabbia di Vladimir. Quanto il calapranzi ha preso da, aspettando il voto? Se io sono indietro, lui mi avverte quel pericolo, e infatti mi dice, mi dice, non sei indietro, vieni accanto. Se io sto qui davanti, è come se gli udessi poca importanza. Invece loro sono sullo stesso, quando parlo, sono sullo stesso piano, perché in realtà sono regali. Che tempo fa? Lo stesso di sempre. Guarda la terra. Non guardate. Col cannocchiale? Non c'è bisogno del cannocchiale. Eh, guardala col cannocchiale! Vado a prendere il cannocchiale. Non c'è bisogno del cannocchiale. Ma guardala. Bene, bene, bene chiesa la mano. Ma guarda, ma guarda, là, ma guarda, là, ma guarda, là. Tutto quel grano che sorge. Più lui è diarico, eh, più l'altro è secco. Non si fa così, eccetera. La mia brucia di là blocchiale. Più lui è minuto. Grazie a tutti.